Contento siamo? La scrittura ci dice che siamo circondati da una così grande schiera di testimoni. Molto spesso questi testimoni noi non li vediamo. Questa mattina lo constatiamo anche dal vivo. Non si vedono tanti testimoni che ci stanno vicini sia da casa ma anche nei luoghi celeste. Il Signore è buono, non ci dobbiamo dimenticare questo, sempre è buono. Non smette mai di essere buono il nostro Gesù. Prima di entrare in questo tema qui che Gesù ci sta aspettando e di non mollare, volevo solo prendere come punto di slaggia queste due scritture che ci possano guidare oltre pure solo la riunione ma anche che possono essere nostri nei prossimi giorni perché io non lo so, però penso che può diventare peggio prima che diventa meglio. Non voglio essere uno negativo, però sappiamo che il mondo è quello che è. Però c'è questa cosa qui e se noi prendiamo l'ottica, scusa il termine, però la scrittura ce lo impone, ce lo fa vedere, un'ottica profetica. Si può dire? Si potrebbe dire? Senza prendere le connotazioni, può darsi negative di quella parola perché viene molto abusata in certi ambienti la parola profetica. Però la parola profetica è pensare come un profeta, quello lo intendo a dire io così. E Salmo 115, solo come punto di slaggia, Salmo 115, guarda, ci dice una cosa che ci dobbiamo ricordare attraverso tutte le nostre prove, tutte le nostre facenti, tutto ciò che succede intorno al mondo, intorno a noi, nella nostra nazione e nelle altre nazioni. Dici, guarda, non a noi, oh Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria. Lo scopo del profeta sempre era, era e è ancora tuttora, di portare gloria a Dio. Quello era lo suo scopo, perché era molto geloso per la gloria di Dio. Perché? Perché il popolo di Israele, quando si è sviato, si è creato delle immagini, si è creato delle sculture, delle pali, di tutti i tipi di cose, avevano dato alla cosa creata la gloria che apparteneva solo a Dio. Hai capito? È il salmista qui, dice, non a noi, Signore, non a quelle che facciamo noi, non a quella cosa che noi vediamo, a te, al tuo nome di gloria, per la tua bentà, la tua bontà e la tua fedeltà. Perché le nazioni, è una domanda questa, perché le nazioni dovrebbero dire dove è il loro Dio? Tu lo potrebbero sentire dire in questi giorni. E questa è la risposta che ci puoi dare tranquillamente. Tranquillamente. Il nostro Dio è nei cieli. Egli fa? Ma questo può sembrare difficile a dire da noi, perché viviamo in un momento che è molto, a livello di società, è un momento che ci piace il buonismo, stare bene, è pensare che qualcuno può fare qualcosa che non va bene per noi e io mi devo sottomettere a quella cosa, non quadra bene. Però dice questo, dice, il nostro Dio è nei cieli. Egli fa tutto ciò che gli piace. Ingoiamola quella. È una pillola, è una pillola anche per i credenti, è tosta, però è così. Il profeta, il profeta non aveva mai, mai, riservazione a dire, ma anche quando legge i vari profeti, anche i profeti minori, tipo Abokuk e Amos, dove Dio agiva attraverso i malvaggi, Abokuk dice, ma signore ti usa di questo? Io sono Dio, non tu. Anzi, io sto per fare una cosa nei vostri giorni, che le vostre orecchie risuonano, vi vanno prurito, perché è Dio, Dio fa quello che vuole. Boh, ci troviamo in un momento così? Ci troviamo in un momento così oggi? A volte molto, vedi, tu vai in giro, c'è una paura in giro, guarda, non ti dico, non ti voglio neanche, una paura in giro, guarda, distanza, destra, sinistra, per carità, per carità, voglio rispettare, dobbiamo essere prudenti, è tutto, però, guarda, e ora vi leggo questo e poi andiamo, guarda, e il profeta, il pensiero profetico è questo, e questo vi lascio, guarda, guarda qua, questa è Isaia, Isaia, Isaia che poi ce lo porta pure l'Apostolo Pietro, questo pensiero, quando lui lo porta avanti, lo tira fuori, lo tira fuori, in capitolo 8 dice così Isaia, guarda, te lo leggo, te lo leggo da capitolo 8, versetto 11, dice perché così prendiamo tutto il pensiero, e poi finisco qui con questo, solo per darci un spunto di lancio per questo, dice così infatti mi ha parlato il Signore, quando la sua mano mi ha afferrato, ed egli mi ha avvertito di non camminare per la via di questo popolo, e mi ha detto, non chiamate con giura tutto ciò che questo popolo chiama con giura, non temete ciò che esse tema, e non vi spaventate, santificate il Signore degli eserciti, sia lui quel per cui provate temore, e paura, egli sarà un santuario, ma anche una pietra di intop, un sasso di inciambe per le due case di Israele, un laccio e una rete per gli abitanti di Giuseppe, però vedi, dice non temete quelle che temono il popolo, noi siamo diversi ragazzi, non voglio diminuire il temore che possono avere le autorità, i medici e tutto il resto, ma noi siamo diversi, siamo diversi, sai, questo lo condivide già, sai nei tempi antichi, nei tempi antichi, durante la pesta, quando c'è stata nel 2003, però nei tempi antichi, quando c'era la lembra, sai chi chiamavano per andarle a curare, queste persone? Ma chi chiamavano? I cristiani. Sai perché chiamavano i cristiani? Non perché, sì, li volevano male, però sai perché? Perché non temevano niente, né Cesare, né malattia, niente, né la morte, non temevano niente, andavano lì, curavano i librosi, li portavano da mangiare, hai capito? E vivevano, portavano gloria a Dio, perché il nostro Dio è nei cieli, Lui fa quello che Lui pare e piace, e questo deve essere il nostro atteggiamento, fratelli, di sperare, noi dobbiamo portare speranza, è un mondo senza speranza, però oggi dobbiamo comportare come figli di luce, figli che non hanno paura, di ciò che ci possano, venire addosso, ok? E ora guardiamo l'Apostolo Pietro, in capitolo, in capitolo 1 di secondo Pietro, ok? Andiamo lì e guardiamo quello che ci ha da dire, questo bel discepolo del Signor Gesù Cristo, che, la cosa bella di Pietro, vi ricordate il capitolo 13 di Giovanni, dell'Evangelio di Giovanni, dove si trova nell'alto solaio, alla fine del capitolo, Pietro si alza e dice, ah, Signore, io non ti tratterei mai, ah, io starò sempre con te, Gesù dice, guarda, prima che finisci la notte, tu mi tradirai, già, capito, mi rineghi, mi rineghi, con quel riprovero, con quel riprovero, perché era un riprovero, era un rinprovero, vero? Noi, abbiamo le parole più belle, che secondo me, che ci possono consolare, grazie all'Apostolo Pietro, che ci sono nella scrittura, non si è turbato il vostro cuore, credete in Dio, credete anche in me, io vado a prepararvi un luogo, e se io vi vado a preparare un luogo, siete sicuri che io ritornerò, e vi prenderò, e vi prenderò, quelli, quelli, sono parole di consolazione, all'Apostolo Pietro, dopo che è stata bastonata, ha detto, tu mi tradirai, tu mi rinegherai, Gesù lo consola, perché non c'è niente, non c'è niente che noi, che noi facciamo, che ci possa distaccare da quest'amore, da quest'affetto che Gesù ha per i suoi, è questo apostolo che poi, ci scrive questa lettera qui, ok? È questa lettera qui, che è la seconda lettera di lui, è lui che ci scrive, colui che ha ricevuto una tala misericordia, una tala abbondanza di grazia, ci scrive questo, è Pietro, è proprio lui, come apostolo di gloria di Gesù Cristo, che lui, come ci dice anche in questo primo capitolo, lui dice, noi non ci siamo inventate queste cose, noi siamo stati testimoni ocolari della sua gloria sul monte, e però dice una cosa ancora più bella di questa, però dice, noi però non abbiamo solo da, perché l'ha visto io, l'ha visto lui, io non l'ho visto, però lui dice una cosa, dice, noi abbiamo ancora una cosa più sicura, più sicura, che è la parola di Dio scritta, che ci accompagna, accompagna, ci accompagnate, oltre adesso, oltre, 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 come l'abbiamo adesso, oltre a 1500 anni, che abbiamo questa parola qui, oltre, come l'abbiamo adesso, ok? Oltre. e questa è la nostra noccia, questa è, leggiamo da versetto, oh, oggi non va a cucinare nessuno, qua possiamo parlare tutto il tempo, oh, se dovete cucinare a casa, andate a cucinare, l'ha accesa la cosa, ve l'ascoltate, bella notte, capito, bellissima sta cosa, questo si potrebbe fare pure più spesso, così, la gente si sente più libera a parlare, poi, allora, leggiamo da secondo Pietro, capitolo 1, versetto 5, versetto 5, fino a 11, e dice, voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra, ogni impegno, aggiungete alla vostra fede, la vertù, alla vertù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore, perché? Se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri, né sterili nella conoscenza del nostro Signor Gesù Cristo, ma colui che non ha queste cose è cieco, oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati, perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione, a elezione, perché così facendo non non ci amparrete mai in questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel Regno Eterno del nostro Signore, a Salvatore, Gesù Cristo. Bellissimo, queste sono parole che ci dovrebbero far regolare, veramente, dovrebbero renderci felici, renderci gioiosi, renderci fiduciosi di ciò che Dio ha iniziato in noi, come dice l'Apostolo Paolo a un certo punto ai filippesi, colui che ha iniziato l'opera in voi, guarda, non vi preoccupate, la porterà a compimento, fino a quel giorno, che è il giorno suo, che è il giorno quando Lui ci viene a prendere, esseremo sempre con Lui. Allora, queste sono cose che abbiamo iniziato a vedere, ma ormai sono mesi, mi sa che era prima di Natale, quando iniziamo a parlare di, per questa stessa ragione, aggiungete alla vostra fede, aggiungete alla fede, che parlando di fede, parlando della nuova nascita, parlando di ciò che Gesù ha fatto in te, perché queste parole qui appartengono, prima di ogni cosa, a credente, appartengono da coloro, la casa, l'edificio, che è stata costruita per mezzo della fede, in Gesù Cristo, il nostro Signore. E questo appartiene a noi, i non credenti, in questa parte qua, che avviene dopo la fede, sono solo opere, alla fine, sono cose che la persona religiosa può provare a fare per piacere a Dio, può provare a fare per guadagnarsi qualcosa, però in realtà, quando lo fa la persona, con quel scopo lì, sono opere morte, e sono opere in realtà che poi ti si parlano, però noi che siamo credenti, noi che abbiamo creduto in Cristo, noi che abbiamo, Cristo che abita, dimora in noi, quel mistero che è stato nascosto dai tempi antichi, che in questi ultimi giorni, è stato a noi manifestato, che quel mistero è Cristo in te, speranza di gloria, questo abbiamo noi, a noi, a questa fede, dobbiamo aggiungere vertù, a quella vertù, che è la vita buona, quella vita che, 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 che trabocca di bontà, ma trabocchiamo di bontà? che significa bontà? Questa è la vita virtuosa, la vita virtuosa, che, che parla qui, Pietro, è una vita piena di bontà, una vita che non conosce, non conosce strani, non conosce persone, che, no, quello non mi sta bene, quella mi sta bene, ecco l'altro, non c'è distinzione, che dovrebbe essere per ogni credente, eh? Dovrebbe essere per ogni credente, questo tipo di vita, questa vita così piena di vertù, piena di, 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 di bontà, poi alla vertù ci aggiunge la conoscenza, il sapere, che poi, non dobbiamo agire come stolti, dobbiamo conoscere certe cose, eh? Dobbiamo sapere certe cose, e Pietro ci, ci invita a questa conoscenza, approfondire la nostra vita buona, la nostra fede, che Gesù ci ha donata, ok? E da questo poi abbiamo lasciato, all'autocontrollo, che l'autocontrollo è, è la vita con i freni, eh? Non è sbagliato, il mondo vive sfrenato, perché non ha, dice, se non c'è rivelazione, dice, dice il proverbio, se non c'è parola profetica, la, eh, tu sei uno sfrenato, nudo, e questo è il mondo, non ha autocontrollo il mondo, il mondo, era, era, Sheila si stava tagliando i capelli ieri sera, e c'era la, questo quando guarda la tv io, li guarda sempre in cibo, perché a casa non ce l'abbiamo, e c'era questa, c'era una cosa, c'era, un canale di musica, mh? Non so qual era, non so qual era, e non ti dico che ci facevano vedere su quella cosa lì, c'è, c'è, era pura pornografia, solo che erano, erano vestiti in una maniera che, però si vedeva tutto, sai, c'erano quelli, quelli, quelli abiti, fatti di nylon, sai, calzamaglia, non c'era niente lasciato all'immaginazione, eh, e quella era, erano i ragazzi italiani che cantavano, hai capito? Era la musica, perché il mondo è sfrenato, e per loro è buono, si baciavano uomini con uomini, si baciavano donne con donne, hai capito? Su questo video, come niente fosse, e c'era un bimbo che, come si dice, non, si vedeva e non cantava lui, era una voce da grande, poi aveva in mezzo la voce di questo cantante nella bocca di un bimbo, che era seduto, che guardava un libro così, e non capiva bene la cosa, però, perché non c'era tanto volume, però l'immagine era quella, e si vedeva in questi brusoli, che si baciavano in quella maniera lì, c'era, poi c'era il sesso, eh, buono, per loro, tra uomo e donna, pure loro, c'era tutto lì, tutto, tutto in questo, c'era tutto nel video, tutto, sesso tra uomini e uomini, sesso tra donne e donne, e sesso tra uomini e donne, c'era tutto dimostrato in questo accordo, e non so che cosa vorrebbe dirvi, perché le parole non c'erano, però secondo me, poteva essere una cosa, vedi, l'amore è amore, come si fa, si fa, per me è sfrenato, per me è mancanza di autocontrollo, quella è mancanza di autocontrollo, e questo viviamo oggi nel mondo, e questo viviamo ancora tuttora, dobbiamo stare attenti, che questa cosa, come diceva pastore Giovanni, che questa cosa, che noi stiamo vivendo adesso, non si porta sulla scia, è dove c'è una specie di controllo, noi perdiamo le staffe, perché abbiamo una paura, chissà che, sì, quello che dici tu, perché questo mi ricordo, uno dice allarmissimo, dall'altra parte, questo succede nel 1938, 39, 40, in Germania, quando iniziarono a ammazzare, tutte le persone, che per loro non erano utili, ok, passare leggi, contro leggi, e via scorreddi, iscrizione al partito, da parte dei pastori, e tutto il resto, questa è storia, leggi inocui, leggi inocui sembravano, leggi buoni, allora stiamo, stiamo con i piedi di piombe, e facciamo delle domande, ben precisi, viste che il nostro paese, giro i concedi, ai nostri governanti, e così stiamo bene nell'autocontrollo, però l'autocontrollo, adesso, e qua arriviamo, all'autocontrollo, c'è questa parola qui, si deve ancora aggiungere, perché queste, queste sono le sette cose qui, che nominano, dopo la fede, nominano queste sette cose, noi siamo adesso alla pazienza, la pazienza, che mi ha sembrato, questo l'avevo pensato, tempo e tempo fa, questa cosa, mi ha sembrato, una cosa anche, da parte del Signore, che, che, che me la fa, condividere proprio adesso, la pazienza, questa non ha pazienza, come potassi, la vogliamo interpretare, a volte molto spesso, dove, io, ho pazienza, perché, questo mi ha, mi ha dato fastidio, e io sopporto lui, che, quella è l'onganimità, la chiama la scrittura, non ha questa pazienza qui, questa, la traduzione, migliore, mi sa che, la Dio d'Adi questa, la dà perseveranza, questa perseveranza, non ha pazienza, questa, questa è una cosa più, la pazienza che, che, che ti parla di, 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 di quella di, 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 di avere sopportazione, verso il fratello, è un'altra parola, completamente diversa, che, che si chiama, in greco si pronuncia, macrotomeo, quella la pazienza che, tu, tu, capito, sei una pizza, non tu, tu mai una pizza sei, però, hai capito, allora, io ti sopporto, questa, macrotomeo, questa parola qui, invece, questa, si chiama, si pronuncia così, Hupomone, questa, questa, hupomone, quando c'è questa, si chiama prefisso, si chiama prefisso pure in italiano, quando c'è questo prefisso, scusa se mi fate sul tecnico qui, quando c'è questo prefisso in greco, up, h-o-o-p, tradotto nell'alfabeto nostro, quando c'è questo, significa di sottastare a qualcosa, di sottastare a quello che segui, la parola, perché questa è formata da due parole, questa parola pazienza, è formata da due parole, e questa parola qui si trova trentun volte nel Nuovo Testamento, trentun volte, e questa significa, che significa costanza, però non costanza che io mi stringhi i denti e dici ce la faccio, ce la faccio, che dice costanza gioiosa, che in qualsiasi circostanza io mi trovo, c'ho la gioia nel mio cuore, come dice l'Apostolo Giacomo, il fratello del Signore, che dice, trovate tutta gioia nelle svariate prove in cui vi trovate, noi ci troviamo nelle prove, a volte è subito, la nostra viso diventa meste cupo, solo a me Signore, guarda quando mi succede a me, guarda, 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 invece questa parola qui, questa parola qui che dice pazienza, che questa è soggettiva, la parola è soggettiva, non è una cosa che io faccio verso un altro, è una cosa che io mi dico a me stesso, io, c'ho il Signore, io devo avere gioia in ciò che mi trovo, la situazione in cui mi trovo, sai perché, perché come ci ha detto all'inizio, Salmo 115,3, se la viviamo veramente quello, Dio è sul trono, Dio è nei cieli, e lui fa quello che ripara a piacere, e quando io inizio a vivere quella sovranità di Dio, che Dio vuole fare, può fare quello che lui vuole, a me, niente che accade in questo mondo, niente, la cosa, e poi alla fine dei conti, che è la peggior cosa che ci può succedere qui, che è su questo mondo? Qual è la cosa? La cosa peggiore qual è? Schiattiamo, si schiatta, è male. Pazienza. Sosteniamo. Sosteniamo. Dio fa le cose buone, non fa mai le cose sbagliate. Vedi? Noi leggiamo il libro di Job, perché poi quella parola lì, la parola pazienza, come ci dice anche Giacomo, dice noi miriamo Job per quello che è, però noi miriamo, sai perché noi miriamo Job? Perché noi sappiamo l'inizio e la fine di quel libro. Job come si sentiva? Sette giorni senza parlare. Almeno male, l'unica cosa buona che hanno fatto i suoi amici era che erano stati zitti pure loro per sette giorni all'inizio. Dopodiché si sono bruciati. Job ha sostenuto. E noi lo guardiamo a Job perché lui ha sostenuto. Perché noi non sappiamo neanche quanto tempo ha durato la sua prova. Non ha durato dei giorni, eh? Ha durato svariate settimane, mesi, se non di più. Pazienza. Pazienza. Sottastiamo. Perché se no, se no, sai che succede? Viste che c'è quel significato di perseverare, eh? Che poi perseverare è uno dei punti, è uno dei cinque punti della parte galvanista del cristianesimo, eh? La perseveranza dei santi, eh? Noi dobbiamo perseverare. E quella parola perseveranza non è, come ho detto, quella che ti stringe i denti e dici, mo ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. No, quella perseveranza in cui Calvino stesso spiega è che io non mi ribello a Dio, non alzo mai il pugno a Dio. Dici, signor, ma hai mandato questo. Gloria al tuo nome, signor. So che se tu me l'hai mandato, eh? Tu mi tiri fuori e mi porti avanti. Posso avere qualche livido, posso avere qualche acciata, posso avere qualche ferita, posso avere... la mia armatura può avere anche qualche ammaccatura, però tu mi tiri fuori. Mi tiri fuori e mi porti avanti. Questa è la pazienza in cui qui parla Pietro. Sai una cosa qui poi? Perché dobbiamo perseverare? La prossima cosa, la prossima cosa che lui nomina qui, che è bellissima, è bellissima. La pazienza, no? Ha la pazienza. Non mi piace questa parola, però non so come ha, perché la pietà. Che è pietà oggi? Se uno ti dice a te pietà, pietà, che ti significa a te pietà? E tu mi metti lo soldo qua, è pietà? Può essere, va bene. Però è venuto a significare quasi quasi come una cosa di compatire. Quasi significa una cosa così? Nella mente modale. Io ti sto chiedendo, eh? Ma so che siete qua tre, sei, sette, siete solo otto qui. A casa, che significa a voi pietà? Eh? Solo compatire qualcosa, una misericordia. Però sai, la parola qui, pietà, che in questo senso qui mi piace più come l'ha tradotto in inglese, è essere come a Dio, di comportarsi come il Signore, di comportarsi come la divinità. Ok? E' questa, e' un'altra cosa. E' questa parola qui, guarda, 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 guarda. Questa, sì, sì, guarda. Allora, viene da due parole, che è questa. Scusa se vi faccio, però molto spesso noi leggiamo questo, ok? E non sapendo veramente quello che voleva dirci l'Apostolo Pietro, allora ci mettiamo il nostro significato. Però se noi pensiamo, viene da due parole questa. La prima, la prima parola è eu, che significa bene, bene. La seconda parola che forma la parola pietà è sebomai, sebomai, e sebia si pronuncia, che significa lodare. Allora, messa insieme, significa lodare bene. La pietà, qui come parla Pietro, è una cosa rivolta verso Dio, non verso solo il prossimo. E allora, io devo lodare bene, devi fare in modo che la mia vita per lui è una lode. Noi cantiamo, cantiamo una canzone, lascia che la mia vita sia una loda a te. No, come si dice? Non canta a te. Questa significa qua pietà, non significa soltanto que. E perciò, nella perseveranza, mentre io persevero, la mia vita deve lodare Dio, con un atto di pietà, un atto di pietà nel senso di adorazione verso il Signore. Allora, nella prova, nelle difficoltà, io devo lodare bene il Signore. Non posso frenarmi, perché se no, le prossime due cose non valgono niente. Anzi, non le praticiamo neanche, le prossime due attributi che ci sono qua. Perché se io non impari veramente a lodare il Signore, io a te ti tratti male. Io ti tratti male. Se Dio è in me, non c'ho quel timore che ci parlava Isaia prima, che se io non sono consumato, non di paura del Signore, però che è in me, che è il timore di Dio di dispiacerlo in un tal modo che Lui è dispiaciuto da me, non perché mi fulmina, proprio perché io non lo voglio dispiacere. Allora io voglio lodare bene, perché lodando bene il mio Signore, sai che succede dopo? Quello che avviene dopo, che è l'affetto fraterno, che è una parola che conosciamo tutti quanti nel greco. Questo, secondo me, tutti siamo esperti. È Filadelfia, non è il formaggio che si spalma, hai capito? È Filadelfia, che è l'amore, l'affetto fraterno, l'affetto fraterno. Quando io lodo il mio Signore, lo lode bene. Io ti amo con tutto il mio cuore, e ti amo facilmente. Non è stante i difetti che posso avere io, che puoi avere tu. Non li vedi più. Sai perché? Ti faccio un esempio qua. Sheila si è andata a fare l'intervento ieri, no, due giorni fa. Quando è andata sotto lì, ha detto, l'hanno messa lì sdaiata, l'hanno legata la testa alla sedia, che non si poteva muovere così. E poi il medico ci ha messo la, c'era la, come si chiama, la luce. E il medico ha detto, tu guarda sempre alla luce. Non guarda nient'altro. Devi guardare sempre a quella luce. Finché non vedi nient'altro. Tu lo devi spiegare? Tu lo devi spiegare? Che dobbiamo guardare noi? Quando Gesù... Tu ci abbaia, ci abbaia. Gli effetti tuoi non li vedi più. Allora l'affetto fraterno, l'affetto fraterno, che è la prossima, dopo la pietà, che adoriamo bene, l'affetto fraterno, la Filadelfia, mi viene spontanea a te. Mi viene spontanea a te. Mi viene spontanea. E venendo spontanea a te, l'amore, l'ultima nella serie qui, l'ultima, la settima qui, l'amore, l'agape, l'agape, quell'amore che veramente, capito, si esprime verso tutti, tutti quanti, si spregiona veramente. perché tu immagina affrontare uno che sa che è amato, affronta il mondo in una maniera diversa, affronta le persone in una maniera diversa, affronta le situazioni in una maniera diversa. Noi dobbiamo essere diversi. Finché quest'amore qui, che l'amore, l'amore, l'agape, l'agape, quell'amore benevole, quell'amore benevole, quell'amore benevole che Dio ha mostrato verso di noi. Perché l'agape è amore che viene dato, non perché, aspetta, me lo voglio dire bene questa, lo voglio dire bene, l'agape ti dà non ciò che tu vuoi, ma ciò che tu hai bisogno. Capito? L'amore aagape non ti dà quelle che vuoi tu, ma ti dà quelle in cui tu hai bisogno. Dio a tanto amare il mondo, che ha donato il suo genere di figli. Dio a noi non ci ha dato quelle che volevamo. Noi volevamo tutt'altro, altro che perdone dei peccati. però Dio ci ha dato quelle in cui avevamo bisogno. E questa è l'agape. Questa è l'ultima cosa che c'è qui sulla lista di Pietro. Ok? E questo è un po', diciamo, il quadro di un credente maturo, un credente che sa, 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 camminare con il suo Dio, sa camminare con il suo papà, in cui ha tanta fiducia e non si fa il problema da dove ha lasciato. Però, guarda che cosa ci dice qua Pietro adesso. Dice questo. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri, né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ok? Vedi? È bellissima questa. se queste cose si trovano in voi. Allora, sai una cosa? Sai che mi dici questo? Io poi la penso. Beh, c'è la possibilità che non si trovano. C'è la possibilità che non ci sono. E non solo qui c'è quella possibilità. Perché poi noi, a volte, la seconda parte di quello, dove dice, perché se queste cose si trovano e abbondano, il segreto è proprio quello. io non mi voglio accontentare che, sì, io so così, deve abbondare. Dio fa le cose sempre in abbondanza. Sempre in abbondanza verso i Suoi figli. E noi dobbiamo abbondare in queste grazie. Perché abbondante non vi renderanno né pigri, né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Perché poi, tutte queste cose qua, non sono solo concentrato su me e su quelle che... E tutto è per portare a me, a me, alla conoscenza sempre più profonda del nostro Signore Gesù Cristo. È questa cosa qui. Questa parola conoscenza che è bellissima qui. Ok? Qua dice, dove sei? Ma colui... Eh, dice, perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri, né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma non so perché l'hanno tradotto così. Potrebbe sembrare strana questa cosa. Però, leggendo... Io ho una Bibbia che mi la dà... Come si chiama? Interlineare. È strana, perché studiando la cosa, ho visto qui, prima che lui dice che non mi rende sterile, perché ci può essere una conoscenza sterile, ok? Però, beh, mi sa che questa può aiutarci un po'. Dice, 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 quando lui lo dice, però, nell'originale, nel greco, dice, dice, perché se questo si trova ad abbondare voi, non mi rende né piccoli, né nella conoscenza del... Poi c'è la parola che c'è, dopo il del, c'è la parola curios. Nell'originale. Curious, sai che significa curios? Signore. Cioè, secondo me, questo è un segreto qui, secondo me, che potesse, il traduttore, non so perché ce l'hanno fatto, l'hanno messo, perché dice, non ci rende né sterile, né pigri, né sterile, né la conoscenza del curios, e poi dopo dice il nostro Signore Gesù Cristo. Allora sarebbe Curious, Curious, Gesù Cristo, che potesse sembrare strano dire Signore, Signore. Però, io ho pensato una cosa, perché c'è stato un tempo fa, in America specialmente, c'è stata questa cosa che Gesù è il tuo Signore, no, è il tuo Salvatore, però non è il tuo Signore, che a me non mi ha mai quadrato questa cosa, non lo capisco. Però, c'è una cosa qui, noi abbiamo bisogno che conosciamo veramente cosa significa Gesù è il nostro Signore, è il tuo Signore. La conoscenza della Signoria di Cristo nella nostra vita deve essere veramente approfondita, approfondita, perché, perché molto spesso quella parola Signore per noi non ha quell'importo, quell'imponenza su di noi. Quante di noi veramente pensano ma dovrei parlare così a mia moglie e io? Ma Gesù mi sta ascoltando, ma io sono sottammesso, Gesù è il mio Signore a questo momento. ma mi sto portando a casa delle cose che non mi appartengono dal mio lavoro. Ma Gesù è il mio Signore in questo momento. Sto pensando a questo tipo di cose verso il mio fratello, verso il mio sorella, ma Gesù è il Signore dei miei pensieri. Vedi, è qua l'Apostolo Pietro, lui dice, queste cose che noi pratichiamo giornaliermente perché la nostra fede, la nostra fede in Cristo, la nostra appartenenza al Signore ci porta avanti e ci porta a esercitarci nella virtù, ci porta a esercitarci nella conoscenza, ci porta a esercitarci nell'autocontrollo, ci porta a esercitarci nella pazienza. nella pietà, nell'affetto fra te, tutte queste cose, ci può aggiornare, ma io le faccio sottamesse a Cristo. Le faccio tante per farle. Do gloria a Dio. Se no, è sterile. Non c'è mondà. Questo è, Signore, c'è, 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 ci vuole far conoscere se stesso sempre di più. Cresciamo. È il tema, se noi vogliamo prendere un tema centrale dell'Apostolo Pietro, è proprio questa cosa qui, di conoscere, di conoscere, di conoscere Gesù Cristo sempre più profondamente. Inizia così da capitolo 1, termina capitolo 3 nella stessa maniera che noi possiamo crescere nella grazia, nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Inizia, finisce il suo, il suo tema così, perché per lui è centrale che noi conosciamo Cristo, è tutto ciò che scaturisce da noi viene da quella cosa che noi conosciamo Cristo. Perché questo? Perché poi finisce così? E questo poi ci arriva, ci arriva al titolo, arriva al titolo di, il nostro tempo insieme qui, perché capitolo 1, versetto 9 ci dice quelli che non ce l'hanno queste cose, che non vedono pienamente queste cose, sono ciechi, oppure miope, avendo dimenticato di essere stati benificati dai vecchi peccati, ok? Questa è la persona che non vede qui, non vede, non si approfondisce, non va a nessuna parte, perché? Perché questo è l'essere umano, questo è l'essere che ha solo scopi personali, scopi che avete solo, solo ciò è immediato, ma oh, finisce così, perciò fratelli, impegnatevi sempre di più, rendete sicuro la vostra vocazione e lezioni, perché così facendo non ci amperete mai, mi piace quella, una promessa bellissima, eh? E in questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù, Gesù ci sta aspettando, Gesù ci sta aspettando, abbraccio aperto, sta aspettando dei Suoi, tu ci vuoi andare, tu mi puoi dire sì, ci voglio andare, però non adesso, il fatto che Lui ci sta aspettando, eh? Dovrebbe rendere la nostra vita, più tranquilla, più liscia, volendo, usando quel termine, non lì. Allora, come ci dice lo vostro Pietro, prendiamo la sua, non voglio chiamarlo suggerimento, però, prendiamo la sua parola dove dice, fratelli, impegnatevi sempre di più, rendete sicuri, non ha mai sbagliato, eh? A ritornare sulle cose che noi conosciamo una volta, o che conosciamo da tempo, a ripassarli, ripassali, impegniamoci sempre di più, dice qua, sempre di più dobbiamo impegnarci, e rendere sicura la nostra vocazione, che significa il nostro impegno, il nostro lavoro, eh? La nostra elezione, io ti appartengo, Signore, preghiamo il Signore, perché così facendo non inciampi mai, non pecchi, non significa che non pecchi, però non inciampi, non rimaniamo atterrati, venga quel che avvenga. E a quel momento lì, con la promessa del Signore, le porte si aprono, e Lui è lì che ci accoglie, ci accoglie. Mi viene l'immagine di Cristiano attraverso il Giordano, lui è il suo compagno, e mentre attraverso il Giordano, che sta andando verso la porta celeste, lui affonda, proprio all'ultimo momento, sembra che affonda, e il suo amico, eh? Dice, guarda, non è così profonda, si tocca, e toccando si sente che appoggia su cosa solida, e continua il percorso. Arriva alla porta, e bussa, e dice, chi sei? Noi siamo due pellegrini, ecco il rotolo, che è già stato detto alla prima, vanno a parlare con il Signore, e dice, apri, e viene detto a loro, entrate, benedetti del Signore, e vengono a volte della meriade di testimoni, e fanno festa, e entrano con il loro Signore. questo ci attende a noi, dopo svariate prove, dopo svariati momenti della vita, sgomenti, quelli che ci possono essere, pazienza, pazienza, sottamettetevi sotto la mano potente di Dio, e Lui ci solleverà. Pazienza, Gesù ci sta aspettando, forza, coraggio, Gesù è vicino a noi, non siamo sgomentati, non siamo paurosi, non siamo come gli altri, pazienza, pietà, adoriamo bene, finché ci sarà concesso quell'apertura, io lo vedo già, braccia aperta, che ci dice, benvenuti, figli miei, benvenuti, entrate nella gioia del Tuo Signore. Preghiamo un attimo. Caro Signore, Ti vogliamo bene, Ti amiamo con tutto il cuore, Signore. Tu sei buono con noi, ci hai promesse che Tu non ci lascerai mai, sarai sempre con noi. Donaci, Signore, occhi di fede, che Ti vedano, che Ti sperimentano, giorno dopo giorno, in ogni circostanza, in ogni momento. Grazie per il privilegio, Signore, che ci dai di leggere la Tua parola, di ascoltarla. Grazie per le promesse che esse contiene. Grazie, Signore, che Tu non ci lasci mai soli. Donaci veramente oggi di rendere sicuro la nostra vocazione, la nostra chiamata di appartenerti a Te. afferra i nostri cuori, Signore, afferraci, finché possiamo sentire, Signore, la Tua presa su di noi. Afferraci, da davvero, da davvero, da davvero, essendo afferrato da Te, possiamo far fronte alle varie prove che ci attendono in questi giorni a venire. Renderci diversi, Signore, da ciò che ci circonda. Renderci, Signore, come a Te. sei buono. Grazie, Gesù, nel nome Tua. Amen. Dio vi benedica. Bene, da Stor Giovanni. Bene, ringrazio.